Ben ritrovati! Allora, di cosa parliamo oggi? Allora, oggi parliamo della scelta degli strumenti, ok? Probabilmente maggior parte di voi già li conosce, cioè, se riconoscere un rake, un gancio, un tensore, un naked, piuttosto che uno col manico, e vedi scorrendo. Però, siete proprio, proprio, proprio sicuri di conoscere bene e perfettamente tutti gli strumenti e per quale lavoro vengono utilizzati al meglio, insomma, per quale esercizio, mettiamola così, rende meglio quello strumento? Sicuri, sicuri? Ecco, sì, mani nere. Questo è il solito. Allora, da dove cominciamo? Cominciamo coi tensori. Sebbene sembrerebbe una cosa stupida, cioè, voglio dire, un tensore, un tensore, non è proprio così. Vi spiego subito. Allora, mettiamo di spostare un attimo la telecamera. Ecco qua. Iniziamo con il tensore che tutti noi siamo abituati a vedere. Ovvero, questo qua è un tensore standard, che ha una rigidità tutta sua, ok? Nel senso, inseriamo una serratura. Come vedete, non flette quasi per niente, ma proprio per niente. Poi, quindi questo viene considerato comunque anche rigido o comunque hard, ok? Detta così, però vabbè. Poi abbiamo un tensore, eccolo qua, anzi, questo qui, che è cross. Vedete? Allora, a seconda di dov'è il nodo, ovvero dove viene girato, ha una rigidità piuttosto che un'altra. Vi faccio vedere. Guardate. Vedete che flette da questa parte del manico in poi, ok? Questo dà un tipo di rigidità, che è di sicuro meno rigido rispetto a quello standard. Et voilà. Poi, abbiamo questo, che va sempre di più verso la cima. Quindi, come vedete, vedete che flette, e flette ancora di più rispetto a quello che era prima. Quindi, questo dà un altro tipo ancora di sensibilità. Andando in scala, ovviamente, c'è quello che è veramente molto vicino. E come vedete, flette decisamente molto di più il manico, ok? Questo è quello più morbido in assoluto. Quindi, a seconda di se voi imprimete più o meno forza, o di come siete abituati, potete trovare il tensore corretto con, mettiamolo così, la giusta impressione di forza. Poi, abbiamo l'Advanced, ovvero questo, ok? Questo strumento, che è Made in Killer Maru Industries, ovvero lo produciamo solo unicamente noi, che cosa serve? Vedete che qua c'è una molla. Questo serve soprattutto con gli spool pin, o i mushroom. Nel senso, se voi, utilizzando un tensore normale, ok? Imprimete veramente un sacco di forza, ovviamente, tenete sempre più incastrato, e sempre incastrato con una forza maggiore, il pin all'interno. E soprattutto, non avrete la sensibilità di prendere e spingere giù quando vai in false set. Questo, che cosa fa? Sapete che, spingendo giù uno spool pin, dà controrotazione. Quindi, se anche voi state imprimendo forza su questo tensore, questo è libero comunque di fare anche questo movimento. Perché se voi tenete fermo il dito, assecondate comunque la controrotazione, perché c'è la molla. Questo è un tensore Advanced. Abbiamo anche quello per mancini, come questo. Come sapete, i mancini tengono con la destra il tensore, ok? Questo è un tensore standard per mancini. Anche questo, made in Killer Maru Industries. E, chiaramente, abbiamo anche l'Advanced per mancini. È più o meno la stessa identica cosa dell'altro, ma questo è quello con la molla. Anche questo serve per gli spool pin, ma per chi è mancino. Direi che, con i tensori, abbiamo finito. Ora, direi di passare agli strumenti. Ah, giusto. Prima di passare agli strumenti, me ne ero dimenticato uno. Questo tensore è una flat bar, ovvero è da bottom attack, ok? Viene inserito sul fondo e viene, come vedete, utilizzato come bottom attack, invece che top attack, come siamo abituati. Niente di strano, ok? Ora, aspetta, questo è di un altro set, se no, se li incasino mi inculano. Iniziamo con i rake. I rake non sono proprio, anzi, iniziamo col dire che esistono strumenti che hanno il manico, ok? Come può essere questo, o come può essere questo. Possono avere manici legno, manici metallo, manici più o meno grandi, a seconda dei propri gusti, ok? E poi ci sono i naked, che sono questi. Hanno tutta una loro storia, però fa niente, sono quelli con cui io mi trovo meglio e utilizzo di più, mettiamola così. Allora, passando agli strumenti, il primo che salta all'occhio, ovvero quello più facile da utilizzare in assoluto, sono i rake, ok? Questo, ad esempio, con questo particolare profilo, è sempre della famiglia dei rake, appena riesco a mettere a fuoco, ok? Ma, rake è rastrello, ma questo viene chiamato shark, perché è praticamente piatto, vedete? Questa ha uno, due, tre, quattro, ma ne può avere anche tre, può averne due, o chi per esso? Ogni rake è diverso uno dall'altro anche in base dalla dentatura, se è più o meno alta. Perché? Perché non tutti i canali delle serrature sono tutti uguali. Cerchiamo di mettere a fuoco, ok. Come vedete, c'è con denti più o meno bassi, con tre, due, quattro, uno, e chi per esso, ok? Questi qua vengono utilizzati con la solita tecnica del raking, ok? Raking, raking, italianizzata, vabbè, dettagli. Ovvero, si inserisce sempre fino in fondo, si tira fuori, fondo, fuori, ok? Aspetta, ok, questo, ecco perché non funzionava. Allora, tecnica del raking, vabbè, ormai ne abbiamo parlato a strafottere e... Questa è raking. Inserisci dentro, fuori, dentro, fuori, destra, sinistra, non sta mettendo a fuoco. E potete utilizzarlo anche come jigglers, nel caso. Nel senso, inserendo un rake, voi potete anche inserire e cercare di muovere come se fosse un jigglers. Poi, ah, fa parte dei rake anche l'half diamond e gli snake, come in questo caso. Eccolo qua, ok? Questo, ad esempio, è uno snake. La famiglia degli snake, cioè sia snake che worms, sono più o meno la stessa cosa. Varia per dimensione o, come si può dire, larghezza delle gobbe e via discorrendo. Ma, fondamentalmente, sono sempre della famiglia dei rake. Anche questi vengono utilizzati, ok, per effettuare raking. Come vedete, in questa serratura non è al massimo. Perché? Perché gli snake vengono utilizzati prevalentemente con serrature dritte, ok? Con il canale dritto. Vedete che ho fatto un pochino di più fatica. Perché, ad esempio, questo canale è leggermente più storto. Fanno parte della famiglia dei rake, come vi dicevo prima, anche l'half diamond, mezza palla di neve, palla di neve, eccetera, 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 eccetera. La grande famiglia, poi, dei rake ne ha un'altra altrettanto grande, che è quella degli hook, ok? Si chiama hook, gancio. Lo strumento utilizzato per fare single pin picking, SPP, oppure pin to pin. Ovvero, utilizzando un gancio, si va a schiacciare uno per uno, ok? Tutti i contropistoncini. Andiamo a schiacciarli giù tutti. Vedete? Io ne sto, praticamente, toccando uno per volta. E qua si apre, praticamente, il capitolo ganci. Ce ne sono di tutte le larghezze, inclinazioni, misure. Ce n'è veramente di ogni, ma proprio di ogni. Vi faccio un esempio. Allora, veniamo a noi, mettiamo un po' a fuoco, ok. Questa, ad esempio, è la Black Series, questa qua è l'edizione limitata di quest'anno. Come vedete, vediamo se riusciamo a riprendere un pochino meglio. Alcuni hook hanno il flat head, ovvero la testa piatta. Altri, invece, hanno rounded head. Le inclinazioni possono essere, decisamente, le più svariate in assoluto. Perché inclinazione, larghezza, dimensioni e anche il manico, questa, vabbè, peculiarità Made in Kidder Maru Industry, dà, ok, un tipo di forza piuttosto che un altro. Questo è per quello che riguarda gli hook. Sembra uno strumento semplice, ma non è proprio così. E di questi ne parleremo sicuramente in un altro video di come realizzare look perfetto. E, credetemi, non è proprio facile, perché c'è l'inclinazione che è più o meno avanti, la testa che può variare, la larghezza, il manico, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, scusate, ok, forse ce la facciamo. Vado a dare un attimino una sistemata e parliamo un po' di che strumenti utilizzare e in quale occasione. Ok, mi ha ripreso i miei perché se rovino gli strumenti clienti mi sfondano il culo. Comunque, partiamo da una serratura semplice, come quella che stavamo utilizzando prima. Ok, questa qua ha solo 4 pin, quindi è decisamente molto, molto, molto facile riuscire ad aprirla. Che strumento andremo a utilizzare per una serratura così semplice? Beh, di sicuro un tensore standard, ok? Possiamo utilizzare anche un gancio in alcuni casi. Non è proprio il suo, però facendo così riusciamo ad aprirla. Questo lo potete fare con delle serrature che hanno pochi pin. Però, se proprio volessimo utilizzare lo strumento corretto, lo strumento corretto sarebbe un rake con, come si può dire, poche gobbe o uno snake con poche gobbe. E andremo, ovviamente, a prendere e muovere. Ad esempio, questo non è il suo. Proviamo a prendere un rake come questo. È andato meglio col gancio, sono sincero. Però, come vedete, non tutti gli strumenti sono corretti anche per la stessa serratura. Proviamo a prendere un rake un pochino più piccolo, come questo. Quindi, andiamo a provare. Voilà! Ecco fatto. Questo per farvi capire che non tutti i rake sono uguali. Ce ne sono alcuni che sono decisamente migliori di altri su determinate serrature. Facciamo l'esempio di questo. Queste sono sei pin. Quindi, un rake molto corto, come quello che io ho utilizzato prima, non andrà troppo bene. Quindi, se io vado, vedete, faccio molta fatica. Ne serve uno che abbia qualche gobba in più. Proviamo questo, ad esempio. Andiamo. Voilà! Aperto. Quindi, anche la scelta del rake non è una scelta da poco. Ok? Proviamone un'altra. Ad esempio, questa qua, 5, ha un canale abbastanza stretto e quindi dovrò essere un attimino più leggero. Quindi, magari, utilizzerò un tensore diverso e, perché no, un rake abbastanza lungo con parecchie gobbe. Voilà! In effetti, ho avuto ragione. Ok? Ora, alcuni rake possono essere utilizzati anche in maniera non proprio consona. Ad esempio, quella che vedete qua è una dimple lock, quindi una serratura punzonata da 10 pin. In alcuni casi potete utilizzare alcuni rake molto, 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 molto stretti, anche per questo tipo di serrature. Chiaro, cioè, capiamoci, non è proprio il suo. Però, come vedete, riusciamo ad inserirlo e andare a prendere e a lavorare comunque, nonostante tutto, sui pin che ci sono. Adesso, contando che non sarà affatto facile, ci andiamo a provare. Mi sento che sta smollando un pochino. Ha smollato ancora un po'. Proviamo di qui. Forse ancora un pochino da questa parte. Ok. Ora, ovviamente, si sarà incastrata. Ecco. E qua si incastra e quindi bisogna tirare giù. Vediamo se è abbastanza. No, serve qualcosa di... Opla, scusate. Bello dalla diretta. Serve qualcosa di piatto. E ora. Ok. Gli abbiamo fatto fare il giro completo. Quindi, alcuni strumenti possono essere utilizzati in maniera, tra virgolette, impropria. Ovvero, abbiamo visto un gancio che può fungere da rake e un rake che può fungere da flag peak. Flag peak sono quelli per le dimple lock e le vedremo più avanti. Cosa dire rispetto a un hook, per dire? Gli hook, ganci, io andrò a scegliere quello con l'inclinazione giusta, o meglio, corretta, e della dimensione corretta in base al canale. In questo caso io, magari, andrò a scegliere e utilizzare un tensore adatto e quindi molto, molto, molto morbido. Quindi, andiamo a vedere. È abbastanza morbido, anche il tensore è molto morbido, il, volevo dire, il gancio è molto morbido. Adesso andrò a muoverne uno per uno. Cosa succede? Vedete? Che questa serratura è un po' dura e quindi questo gancio che io sto utilizzando non è proprio il suo indicato. Ok? Perché? Perché ho paura che a lungo andare posso piegarlo. E serve un gancio che abbia uno spessore maggiore. Vedete? Questo purtroppo è troppo fine. E quindi, che cosa succederà? Che prendo e andrò a piegare quello che è il gancio. Quindi andiamo a cambiarlo, se ce n'è uno a tiro, se no cerchiamo di fare piano e lo andiamo ad aprire. Voilà! Quindi, anche la scelta del gancio e soprattutto dell'inclinazione del gancio è fondamentale quando andate a effettuare il proprio esercizio. Se ad esempio avesse avuto un'inclinazione maggiore questo gancio, qua dentro non sarebbe entrato e non sarebbe riuscito a toccare tutti i pin. Ok? Fino in fondo. Quindi, quando praticate e soprattutto vi mettete ad esercitare, è importantissimo la scelta dello strumento giusto. Ok? Beh, sono andato un pochino per le lunghe, però era doveroso. Quindi, anche per oggi è tutto. Un saluto. Alla prossima!